Una giornata in cui sacro e profano si uniscono ferragosto, la festa delle ferie celebrata dalla Chiesa Cattolica per festeggiare l'Assunzione di Maria in Cielo. La festività di origine popolare cadeva il 1 agosto, lo spostamento si deve alla Chiesa Cattolica che lo volle per fare coincidere la ricorrenza laica con il giorno liturgico dell'Assunzione. È quindi una grande festa perché non solo a livello liturgico per la Chiesa Universale ma anche per noi perché la nostra cattedrale porta il titolo dedicato all'Assunta e compatrona anche Santa Giustina. Domani quindi celebreremo la festa di Maria e fra un mese, il 26 settembre, è la festa liturgica di Santa Giustina. Domani quindi una grande festa che purtroppo non trova una grandissima partecipazione proprio per il periodo del ferragosto. Ci sarà il Vescovo che presiede indubbiamente la messa delle ore 11. Il principale luogo di culto cattolico di Piacenza accoglierà fedeli e turisti di passaggio, offrirà il piacere di vedere suntuosi affreschi, il Guercino, i Morazzoni, i Carracci, il suo campanile alto 71 metri in laterizio del 1330 su cui si può salire e toccare il cielo. Il giorno 16 San Rocco, i riti nell'oratorio di Via Legnano. Anche questo è un appuntamento molto bello, sinceramente devo dire che sono sorpreso dalla frequenza, ma anche l'anno scorso ho avuto modo di vedere con meraviglia e sorpresa la gente che viene in questo giorno perché è attratta appunto da questa figura di San Rocco. La statua del Santo titolare risalente al 500 per l'intera giornata avrà l'omaggio dei Piacentini. Grazie.